A poco più di un mese dall'avvio dell'anno scolastico 2019-2020, migliaia di insegnanti in tutta Italia rimangono in attesa che si sblocchi il decreto preannunciato dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti, misure urgenti per i precari, ancora fermo al palo. Un'intesa che darebbe il via ai percorsi abilitanti speciali. A Piacenza e provincia sono circa 500 le cattedre che saranno occupate da insegnanti precari con più di 36 mesi di servizio, per i quali l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali può rappresentare una soluzione di stabilizzazione. È fortemente a rischio il decreto che deve portare a compimento quanto previsto nell'intesa del 24 aprile, nel quale il ministro Bussetti e il premier Conte avevano preso un impegno molto importante col mondo della scuola, attraverso il quale i precari della scuola, docenti con più di 36 mesi di servizio, potevano avere accesso ad un concorso riservato. Il nostro ministro ha annunciato che dobbiamo stare tranquilli, quindi nel Consiglio dei Ministri del 9 il provvedimento sarà votato, noi sappiamo invece che ci sono furtissime contrarietà da una parte del governo e siamo molto preoccupati dal fatto che giochetti della politica possano influire in modo così negativo e così pesante sul personale della scuola. Dovevano esserci all'incirca un 58 mila posti da stabilizzare, sono stati invece autorizzati un 52 mila posti, quindi già questo produce anche un problema con l'intesa perché è chiaro che salta l'impianto. Doveva essere inserito questo nuovo modello di reclutamento selettivo, ripetiamo, perché comunque si sta parlando di docenti che lavorano nella scuola da tanti e tanti anni e che hanno acquisito una professionalità e che portano qualità all'interno delle nostre istituzioni scolastiche. La scuola così non può reggere. Grazie.